Però c'è dentro anche un fondo. Tornando, salto per un attimo di Vico. Io davvero, primo, sono convinto del fatto che è giusto discutere in Parlamento, ma dico non solo in Parlamento, anche in Parlamento. E l'ho chiesto a Bersani, ad altri, un dibattito che fosse sostanziale e anche informale. Mercoledì vado, tutto convinto e contento, e mi ritrovo che il dibattito è organizzato sulla mozione Bersani. Con tutto il rispetto per Bersani e per la signora mozione, ma non è così che si fa un vero dibattito. Il Parlamento nel Paese, per fare una relazione, venga Berlusconi. La Merkel è andata in Parlamento, Sarkozy è andata in Parlamento, hanno parlato di crisi economica. In venti mesi il Presidente del Consiglio vuole per favore presentarsi e parlare di questa benedetta crisi economica, che io non faccio le emozioni e che poi il Parlamento non ne faccio mica una mitizzazione. È il modo anche perché poi le forze si attrezzi. Dai Giulio, è così, no? Dai, è così.